vabbè quello glielo apparecchi tu a quando quando torni quando arrivi tu alle 13 e 15 poi mi dici quando posso venire io sto montando il letto all'una e mezza e io ritarderò di più va bene mi chiami quando è finito il letto e io vengo con lei allora cara Miruzza sto continuando a costruire come al solito papà ha sbagliato dove ha sbagliato la prima volta diciamo queste due sbarre le vedi solo una c'ha la filettatura ma non lo possono scrivere due parole in più nelle istruzioni che è una delle sue sbarre alla filettatura cioè lo so che non ci vuole un'arca di scienze però casper modica giuanni dove sei vieni qua sto scherzando poi l'altro errore che ho fatto dov'è vede questi vanno montati da sotto io non vedo bene e il primo errore che ho fatto l'avevo montata da sopra poi ragionando dice ma il letto può mai poggiare sopra con una comunque tu lo sai Miruzza il tuo papà è imbranato è vero so che quando vedrai questa cosa ti farai quattro risate ciao piccola